Poracci, qualcuno di voi è riuscito a riconoscere Stair Dismount, ma solo chi l'ha giocato all'epoca lo chiama col suo vero nome. Tanto di cappello al mitico Ruggero Bartoli che pronuncia il nome magico, Porra Sturvat. Mamma mia, quanti ricordi! Invece è stato molto difficile scegliere la migliore risposta sbagliata. Tra insulti a Game Freak e storie di vita vissuta, mi avete fatto morire, quindi taglio la testa al toro e scelgo il commento di Let's Save Our Planet che scrive Poro dopo che non esce la Switch Pro. Guardate che prima o poi, ma prima o poi succede, eh? Ma mentre aspettiamo, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre in formissima. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che mica lo so se ve la meritate. Discuteremo del nuovo trailer di leggende Pokémon Arceus. Continueremo a parlare di Kirby e di un anno che sarà sicuramente all'insegno della palla rosa. E andremo a esaminare gli ultimi rumor relativi a GTA 6. Riusciremo a conquistare in modo non violento YouTube Italia prima che esca il sesto capitolo di Grand Theft Auto? Io ci credo, però voi vi dovete impegnare. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e direi di iniziare dalle recensioni ottenute dai porting di Monster Hunter Rise e God of War su PC. Ho deciso di accorpare i due titoli non solo perché si tratta di due porting usciti praticamente in contemporanea, ma anche perché si tratta di due esclusive importantissime che approdano sul PC con delle conversioni che non hanno ricevuto altro che elogi. Mentre per Monster Hunter era solo questione di tempo, fa proprio strano pensare di poter giocare su computer God of War, una delle IP fondamentali del brand PlayStation. Tra l'altro come conversione sembra ottimizzata a dovere e non solo presenta un passo in avanti netto rispetto alla già eccellente versione PS4, ma in più non richiede chissà quale configurazione per girare degnamente. Insomma, se stavate aspettando con impazienza Rise e God of War, beh, servitevi pure, le versioni per PC sono dei must buy assoluti. Qualche tempo fa abbiamo parlato del reboot di Twisted Metal, progetto che sembra aver ricevuto uno scossone durante la produzione. Infatti il titolo sarebbe stato affidato a un nuovo team, dopo che Lucid Games, gli stessi di Destruction All-Stars, avevano iniziato la produzione. A prendere le redini del progetto ci penseranno i ragazzi di Fire Sprite, team recentemente acquisito da Sony, che si occuperà del gioco in VR Horizon Call of the Mountain. Non si conosce il motivo di tale importante cambiamento, ma a quanto pare i due studi sono fisicamente molto vicini tra di loro. Entrambi sono situati a Liverpool e recentemente uno dei game director di Lucid Games è stato assunto da Fire Sprite. Insomma, questo cambiamento non dovrebbe necessariamente indicare che i lavori siano ripartiti da zero. Speriamo bene per il ritorno di Twisted Metal. E di voi si ricorda di Spartacus. No, non la serie televisiva, ma il nome in codice di un progetto di Sony che dovrebbe andare a rimpiazzare Plus e Now per porsi come unico abbonamento in competizione col Game Pass. Sembra che Sony abbia iniziato a muovere i primi passi in questa direzione. A quanto pare, in un articolo pubblicato su VentureBeat, i rivenditori del Regno Unito hanno ricevuto indicazioni di rimuovere dagli scaffali il 21 gennaio tutte le carte prepagate di abbonamento al PlayStation Now. I giocatori non saranno così più in grado di sottoscrivere futuri abbonamenti nel momento in cui Sony deciderà di togliere anche l'opzione online. La morte del Now potrebbe essere più vicina di quanto crediamo e chissà, magari già nel 2022, inizieremo a sentir parlare in modo ufficiale da parte di Sony del tanto chiacchierato Spartacus. Gua in vista per il Game Pass? Ma passiamo alle notizie del giorno. Nintendo ci sta abituando molto bene questa settimana e dopo il video dedicato a Kirby, oggi è il turno di Leggende Pokémon Arceus che ha ricevuto un trailer della bellezza di 13 minuti tutto incentrato sul gameplay. Finalmente possiamo farci un'idea su come è strutturato il gioco e questa volta sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate. Il gameplay vi ha convinto? Trovo quantomeno particolare la decisione di Nintendo di non svelare praticamente nulla del gameplay fino a questo momento, quando in realtà si tratta della carta vincente del titolo. Sì, ormai è anche inutile ripeterlo, tanto è palese. Graficamente non ci siamo e la resa complessiva di Arceus è datata anche per una console poco ambiziosa come la Switch. Il gameplay però è la parte più affascinante di tutta l'operazione, insieme alla storia che potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per i più appassionati alla lore dei mostri tascabili. Resta il fatto che grazie a questi 13 minuti di gameplay abbiamo finalmente le idee chiare su come funzionano esplorazioni e combattimenti, come si struttura il gameplay loop diviso tra missioni, richieste ed esplorazioni e in generale il pacing di un'avventura che punta a discostarsi da tutti i canoni della serie. Ci sono molte cose che mi hanno colpito come l'inclusione del crafting, la riscrittura del sistema a turni che per certi versi mi ha ricordato Final Fantasy X, le fasi action mutuate quasi da un Monster Hunter e le fetch quest prese direttamente da Xenoblade Chronicles e qui si vede l'aiuto di Monolith. Ci sono parecchi punti di riferimento illustri e siamo ben lontani da quello che mi immaginavo come un semplice tentativo di imitare l'open world minimalista di Breath of the Wild, anche se i primi trailer e la presentazione grafica suggerivano proprio quello. L'unico dubbio che mi rimane è la tenuta sulla lunga durata di tutta questa impalcatura, superato l'effetto novità e sorpresa introdotto dalle nuove coordinate di gameplay, spero che gli sforzi di Game Freak si siano concentrati soprattutto nel declinare queste nuove intuizioni piuttosto che introdurre tanti concept che magari però non vengono sviluppati e integrati a dovere nell'esperienza complessiva. Insomma rimango aperto nei confronti di Legende Pokémon Arceus che sono sicuro sarà uno dei titoli più divisivi dell'anno. Voi poracci dopo quest'ultimo trailer avete cambiato idea sul gioco? Continuano le buone notizie per Kirby e dopo il trailer di ieri dobbiamo fare qualche piccola ma significativa aggiunta. E così di botto il 2022 si sta trasformando come un anno imperdibile per i fan della mascotte rosa. Avete presente quanto Nintendo sia stata scandalosa nel non festeggiare a dovere il 35esimo anniversario della saga di Zelda? Beh con Kirby, senza motivo, le cose a quanto pare andranno in direzione diametralmente opposta. Quindi Nintendo ci ha fatto sapere che in occasione del trentesimo compleanno della palla rosa ci saranno numerose attività pensate per festeggiare questo importante traguardo. Si inizia con un artwork a dir poco delizioso e inoltre sul sito ufficiale di Kirby e la terra perduta potrete trovare nuovi screenshot del gioco. Ma a questo punto è giusto chiedersi cos'altro è in servo Nintendo per questo importante compleanno? Storicamente ci sono dei precedenti molto interessanti. Ad esempio dieci anni fa fu pubblicata la Kirby's Dream Collection, una delle raccolte celebrative più ricche di sempre, dove anche solo il menù di selezione dei giochi era una sorta di museo interattivo. Veramente un lavoro fatto con i fiocchi, mica come le recenti collection di Nintendo. E non faccio nomi. Quindi, altro che Mario, Kirby è la vera mascotte Nintendo. Voi poracci, cosa vi aspettate nei prossimi mesi? E chiudiamo con una delle più grandi ossessioni del mondo videoludico, GTA 6. Penso che ci siano più rumor riguardanti questo titolo che di Nintendo Switch Pro, Mario Kart 9, Silent Eats e il remake di Metal Gear Solid messi assieme. Ma nonostante ormai sia passata un'eternità dall'uscita di GTA 5, del suo successore non sappiamo ancora nulla. Ora però, involontariamente, Take-Two potrebbe aver svelato qualche dettaglio sull'uscita del titolo. Ah, come al solito, visto che il publisher è impazzito, non posso rischiare di mettere i trailer di GTA. Quindi, in questo segmento, ci saranno solo immagini a caso. Solo immagini sbagliate. In seguito alla recente acquisizione di Zynga da parte di Take-Two, il noto publisher ha aggiornato le sue previsioni di crescita aziendali, indicando come nel 2024 ci sarà un'espansione di circa il 14%. Gli analisti hanno fatto notare come un incremento del genere sia possibile solo tramite l'uscita di un titolo in grado di smuovere numeri di vendita impressionanti, in quanto sarebbe equiparabile a una spesa da parte dei consumatori di 9 miliardi di dollari. Quindi, in molti si aspettano, nel periodo compreso tra il 1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024, l'uscita di un AAA che molto probabilmente sarà proprio GTA 6. Quindi, dormite sonni tranquilli, avete ancora un altro anno e mezzo abbondante di GTA Online, nuove versioni di GTA 5 e anche ottime remaster storiche come The Trilogy dei Definitive Edition. Non male, eh? Ma ditemi, voi poracci pensate che questo periodo di lancio sia realistico per un colosso come GTA 6? Questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera sul sito Viola per una nuova live alle 21.30 oppure a domani per un nuovo video. Voi, in ogni caso, dovete fare solo tre cose, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porarcheus, Michele Chirbi, ciao! Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! NINTENDO NINTENDO